Buongiorno, avrai bisogno di due biglietti per la metro. Hai dovuto aspettare ma alla fine ce l'abbiamo fatta eh. Pensa se adesso arriviamo là e ci hanno rubato la cappella Sistina. Ma ma perché le rovine si chiamano rovine? Perché sono rovinate? Sì amore. Lea, bella Dizia. Stiamo qua una settimana, va bene? Francesco ti prego cerca di capire, è una cosa molto importante. Più importante di me. Francesco? Maria? Ma questa è la strada per i musei Vaticani? Grazie. Ha visto due bambini? Una volante sta fissa qua e poi ci sono tutte le altre in giro per la città, soprattutto dal percorso dalla stazione AIMU. Sono 35 anni e sto in giro per Roma, ma sai quanti bambini ho ritrovato? Ma voi siete da soli? Ciao. No, no, siamo abituati. E la vostra mamma dov'è? Questi bambini sono soli, è pericoloso. State attenti. Che fai? Mi prendi in giro? No, sì, no, sì, no! Ma io lì sei qua. E dove vai? Che ci fate ancora da queste parti? Abbiamo avuto un imprevisto. Buona fortuna, eh!